Che cosa vuoi? Prendo una... una coca e una ciambella. Non abbiamo ciambella. Bene, allora... ecco... Io prendo... posso avere solo la coca? Sì, una coca. E tu? Un caffè. Un caffè. E uova strapazzate. Non serviamo colazioni la sera. Perché no? Perché così è scritto sul menù. Ma avete ancora le uova? Sì. E avete una padella? Sì. Allora potete cucinare delle uova strapazzate. Bene, nient'altro. Bacon. Bacon. E dei toast. E toast. E una birra. E una birra, nient'altro. No, basta. Sicuro? Portami quello che ti ho chiesto. Che c'è? Ho fame. No, è solo che... non so, non avrei mai fatto una cosa del genere. Non ti piacciono le uova? No, insomma, è solo che... Non mi sentirei a mio agio a parlare a una persona inquietante. È qui per servirci, è una cameriera. Se non le dici quello che vuoi, come può fare il suo lavoro. No, mi rendo conto, ma lei a volte è piuttosto irascibile. Ecco il tuo caffè, la tua birra e la tua collezione. Non c'è la coca.